Nella Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia di Cosenza è stata presentata la 37esima edizione del Festival Euro Mediterraneo di Altomonte, che prenderà il via domenica 4 agosto. Il tema del cartellone 2024 è La magia dell'abbraccio e tra ispirazione da una poesia di Pablo Neruda. 37 anni e non sentirli, un festival giovane, un festival che cerca di trasfondere entusiasmo, trasfondere sensazioni positive e fare anche da ponte tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni. La magia di un abbraccio è un'idea del direttore artistico di Antonio Blandi e credo che abbia un senso particolare in questo periodo. L'abbraccio è inclusione, l'abbraccio è incontro con l'altro, l'abbraccio è solidarietà istituzionale, interesse per il bene comune, l'abbraccio è pace. E in questo momento ce n'è tanto bisogno e credo che questo sia il messaggio che deve viaggiare sia verso l'Europa sia verso il Mediterraneo. La magia dell'abbraccio è perché noi vogliamo che il festival sia contemporaneo, culturale e sociale. Non vogliamo che sia soltanto un elenco di spettacoli che sicuramente renderanno l'estate più bella, più felice. Vogliamo fare in modo anche che il festival contribuisca alla crescita collettiva e soprattutto alla coesione sociale. Il festival parte il 4 di agosto, comincia con secondo me l'evento più bello perché grazie all'associazione Arcobaleno che presenterà un musical fatto da ragazzi con disabilità, noi celebriamo l'abbraccio nel modo migliore. Sicuramente rappresenta il momento di partenza ma per noi rappresenta un momento anche di partenza, di nuove esperienze perché con questa compagnia vogliamo sviluppare un percorso condiviso di attività. Quindi non soltanto un momento di rappresentazione ma la bellezza di poter rendere più felici delle persone, dei ragazzi che si stanno impegnando in questa attività per noi è fortemente rappresentativa. Siamo un'associazione giovane, un'associazione nata circa un anno e mezzo fa con l'intento di portare tanta consapevolezza ma soprattutto di lanciare questo messaggio dell'inclusione sociale. Con la collaborazione del nuovo centro danza della maestra Raffaella Runco abbiamo voluto mettere in scena questo musical, questo spettacolo che parla di diversità. Al centro di questo spettacolo c'è proprio la diversità. Saranno tanti gli appuntamenti previsti dal ricco programma volti a sottolineare l'importanza della cultura come strumento di mediazione sociale per incentivare il confronto, l'ampliamento delle conoscenze e degli orizzonti, la coesione sociale e lo sviluppo delle comunità. Un festival ricco, vario, in cui si troveranno tante cose, dalla danza alla musica, allo spettacolo teatrale, al cabaret, al divertimento leggero. Quindi dopo l'apertura del 4 insieme con i ragazzi dell'associazione Arcobaleno il primo impegno legato a personaggi di carattere nazionale sarà l'8 agosto con Ezio Greggio in esclusiva credo regionale. Lo chiuderemo dall'altra parte il 28 agosto con l'unico concerto di Raffi in regione che ha già registrato molto entusiasmo. Al centro tante cose ma ricordiamo che ancora a settembre noi continueremo con la festa dell'agricoltura. Ovviamente anche spazio per il food, il cibo tipico, la promozione delle identità del territorio. Quindi Altomonte ancora una volta lancia il suo messaggio. Il messaggio è noi cerchiamo faticosamente di fare turismo, di fare accoglienza anche nell'entroterra puntando sui borghi. Non a caso tutti gli spettacoli, a parte quello di Raffi che ha un costo considerevole e quindi dobbiamo recuperare almeno una parte del budget, sono ad ingresso gratuito. Viva la magia del ambraccio!